Sono due filoni che anche quest'anno compongono la stagione di teatro ragazze di Foligno, il teatro di domenica, la rassegna per le famiglie all'auditorium di San Domenico e il teatro di classe riservato alle scuole, dall'infanzia alle superiori. A mettere insieme il cartellone, così come avviene da 23 anni a fonte maggiore teatro stabile di innovazione, insieme al comune di Foligno con la collaborazione di Regione e Ministero. Il via domenica 12 gennaio con gli spettacoli per le famiglie ad andare in scena è lo spettacolo Jack e il fagiolo magico, consigliato dai 3 ai 10 anni, mentre la domenica successiva è con Diapason, clown in musica, spettacolo divertente in cui due clown si esibiranno con musica, gag e acrobazie. Chiusura il 2 febbraio con trecce rosse ispirato a pippi calze lunghe, i biglietti sono disponibili il giorno dello spettacolo dalle 15.30 al botteghino dell'auditorium. Dal 13 febbraio al 27 maggio invece in programma la rassegna teatro di classe con sei spettacoli, l'anno scorso sono state 2.000 le presenze a testimoniare la sempre crescente adesione delle scuole del territorio. Evidenziati nella conferenza di presentazione da parte dell'assessore comunale alla cultura Elisabetta Piccolotti e della presidente di Fonte Maggiore Stefano Cipiciani, le difficoltà incontrate nell'organizzazione della rassegna, ma ha anche ribadito il valore che riveste la prosecuzione di questa tradizione ormai consolidata, segno di civiltà e attenzione per la formazione e lo sviluppo dei piccoli cittadini di domani. Siamo contenti di presentare anche oggi la rassegna di teatro per ragazzi che verrà fatta a Foligno, comincia domenica, sono tre spettacoli domenicali per le famiglie e sei spettacoli per le scuole. Molti spettacoli sono legati al mondo della fiaba, altri spettacoli legati al mondo delle storie e delle contemporaneità per invitare i ragazzi a crescere e andare avanti con il teatro. Il teatro è sempre uno strumento critico di riflessione e pensiamo che sia importante portare avanti questo progetto. Devo dire che il Comune di Foligno è solo uno dei primi comuni 20-25 anni fa a partecipare a questa iniziativa, per cui siamo ben contenti di continuare anche quest'anno.